Ben trovati gentili telespettatori, siamo alla terza annualità del corso Viva e Racconto del Cilento Channel e qua intervisteremo i Blossoms che racconterà la trama del nostro spot. Giacomo. Allora, lo scopo sarà la legalità. Un uomo di alta società in un supermercato guarda un uomo di colore per vedere quello che può permettersi, i prezzi delle bottiglie eccetera. Va a quello di alta società e gli inizia a dire che è inutile controllare perché comunque è troppo povera e non può permettersi niente. Ma l'uomo, dico loro, offeso, reagisce fino a far arrivare questa rissa in tribunale. L'uomo di alta società, prima della sendenza, corrombe gli avvocati e il giudice per vincere la causa. Dopo la riunione, l'uomo di colore viene rinchiuso per tentata violenza, pagandone la colpa dell'altro. Nel giorno dell'accaduto si viene a sapere che c'è stato un furto nello stesso giorno. Controllando le telecamere di sorveglianza, ci si ritrova nel guardare la scena dei due e si viene a sapere tutta la verità. Così viene denunciata la cosa per corruzione. L'uomo di alta società viene arrestato insieme al giudice e i suoi avvocati rilasciano l'uomo di colore, diciamo. Siamo con Francesca. Cognome onorato. Che gruppo sei? The Best. Cosa trattate? La violenza sulle donne. Cosa ne pensi? Penso che la violenza sulle donne è un tema molto trattato e appunto abbiamo deciso di farlo anche per evitare che succedi anche nel nostro paese e sperando che questa cosa diminuisca sempre. Qui siamo con? Marta. Cognome? Capo. Di che gruppo fai parte? The Best. Che tema trattate? La violenza sulle donne. E cosa ne pensi? Che è un tema che al giorno d'oggi viene trattato sempre di più ultimamente e le donne che subiscono la violenza sono sempre di più e quindi cerchiamo di farlo capire. Qui siamo? Sara. Cognome? Brasilo. Di che gruppo fai parte? The Best. E di che tema trattate? La violenza sulle donne. Cosa ne pensi di questo tema? E che è un tema molto comune e con questo piccolo spot vogliamo fare in modo di far capire alle persone che le violenze sulle donne non si devono fare. Qui siamo con? Francesco. Cognome? Onorato. Di che gruppo sei? The Best. Di cosa si tratta? La violenza sulle donne. Cosa ne pensi? Allora, secondo me la violenza sulle donne è un tema molto trattato oggi e noi appunto l'abbiamo fatto proprio sperando che questa cosa diminuisse sempre di più. Con? Clara. Cognome? Russo. Di che gruppo fai parte? The Best. La trama? La violenza sulle donne. Cosa ne pensi di questa cosa? Penso che questo spot, la violenza sulle donne, è un tema molto comune e noi l'abbiamo fatto apposta per mandare il messaggio che non si ripeti più. Qui siamo con? Emanuela. Cognome? Vesticchio. Di che gruppo sei? The Best. La trama? La violenza sulle donne. Cosa ne pensi di questa cosa? Penso che molte donne subiscono la violenza e quindi noi abbiamo affrontato questo tema proprio per far capire che è una cosa sbagliata e cerchiamo di non farlo ripetere più. Federica. Cognome? Wolf. Del gruppo? Critical Gang. Che tematiche affrontate? La droga. Che cosa ne pensi? Che molte persone si drogano quindi vogliamo inviare il messaggio che devono smettere. Paola. Cognome? Paralea. Del gruppo? Blossoms. E cosa trattate? Il cyberbullismo. E cosa ne pensi? Che nel mondo ci deve essere la pace e non dobbiamo... Siamo qui con... Salvador. Cognome? Sirica. Del gruppo? I Blossoms. E cosa trattate? La legalità. E cosa ne pensi? Ne penso che... Cioè, comunque è un tema difficile da fare, che... Comunque è una cosa che succede molto spesso e che nessuno ne parla, quasi mai. E quindi volevamo appunto trattare questo. Paola. Cognome? Pralea. Del gruppo? I Blossoms. E cosa trattate? La legalità. Cosa ne pensi? Che questo trama non viene trasmesso molto e quindi volevamo trasmettere questo messaggio. Siamo qui con... Camellia. Cognome? Adam. Il gruppo? I Blossoms. Cosa trattate? La legalità. Cosa ne pensi? Che la legalità al giorno d'oggi è un argomento non molto spiegato, però è molto importante. Quindi lo vogliamo rappresentare in un piccolo spot. Cosa trattate?